Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, che si è cambiato il vento? Ma magari in Europa il vento è cambiato, e già perché insomma quelli bravi, quelli invincibili, quelli che sono squadra, che effettivamente hanno confermato tutto quello che sto dicendo in campionato, e anche loro con un po' di assenze alla fine hanno preso tre fischioni a Stamford Bridge, sto parlando dei cugini di campagna, di quelli della cadetteria, che ogni volta ha l'Inter, 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 l'Inter ha i suoi problemi, però diciamo che in questa terza giornata di Champions League alla fine hanno vinto tutto tranne il Milan e ci può stare, perché a un certo punto qua sembrava che gli unici fessi fossimo noi, noi e quelli della Juve. Anche la Juve è tornata a vincere, Di Maria ha fatto tre assist, quando dico insomma che questo è un giocatore che anche se pensa ai mondiali o ai cavoli suoi risulta determinante, forse lo dico a ragion veduta, mentre CDK Charles Decatler, Uragano Decatler, mi ricordo sempre questo titolo, dopo tre gol alla Pergolettese, ecco questa volta lo stanno massacrando, Decatler fantasma, perché devo dire che anche in quelli che si occupano a livello giornalistico di calcio ormai non c'è più equilibrio, io trovo assolutamente normale che Decatler debba avere il tempo per inserirsi in questa squadra, quindi non era un fenomeno quando faceva tre gol alla Pergolettese, non è un fantasma neppure ora anche se certamente andare a Stamford Bridge contro il Chelsea, insomma con tutte quelle assenze non era facile nemmeno per il Milan, però sembrava, e Pioli anche stavolta a fine partita ha detto, ma no, le assenze non sono un problema ragazzi, ma a me sembra che invece le assenze siano un problema per tutti, lo dico io che ho battuto il Barcellona senza Lukaku, soffrendo, che ho rivisto finalmente una squadra e che adesso dovrà andare a Barcellona probabilmente senza Lukaku, anche se adesso ci dicono, ma magari stringe dente e prova a andare in panchina, non ha Lukaku per Barcellona, non ha Correa sicuramente, c'è Tarotaro che insomma benissimo non sta e quindi magari dovrò aggregare il primavera Valentin Carboni, ma già adesso a Reggio Emilia, io dico solo insomma che diamo sempre dei giudizi tranchant e ripeto per l'ennesima volta che esageriamo da una parte e dall'altra, io cerco di fare un canale YouTube che sia razionale, quindi ci sta lo sfottò, visto che ne ho subiti tanti, pensate che Mimmo Pesce mi ha mandato il suo spezzone preferito del Pinocchio di Comencini che mi ha mandato varie volte quest'anno, me l'ha mandato dopo Lazio Inter, quello delle tre pere, ti piacciono le tre pere? Me l'ha mandato pure oggi che non ero io il destinatario, fa scusa ho sbagliato il destinatario, ho l'abitudine a mandarlo a te, perché tre gol dalla Lazio, tre gol dal Milan, tre gol dall'Udinese, ecco gli ho detto stavolta lo mandi a quelli della cadetteria, no sì scusa è l'abitudine a mandarlo a te, quindi voglio dire ogni tanto tre pere le possono prendere anche gli altri, ogni tanto, questo non cambia nulla perché come sapete il nostro girone resta complicatissimo, non credo che al Cam Nou si riesca a salvare la pelle, però ci proveremo, ci proveremo, ma come vi ho sempre detto a me interessava vedere una cosa in attesa della partita di Reggio Emilia col Sassuolo, continuo a dirlo, non mi interessa adesso la formazione, io delle cose mi sono permesso di mandarle come messaggi, mi interessava capire se la squadra in un momento in cui ognuno andava per i cavoli suoi, perché questa è la verità dell'Inter, di questo inizio stagione ognuno pensa al proprio orticello, lì viene prima di noi, ecco mi interessava sapere, vedere se magari l'unica compattezza che avevano trovato questi che vanno in campo, i nostri, era contro l'allenatore, non mi sembra, non mi sembra, anzi ribadisco, una squadra che vuole il male del proprio allenatore non fa una partita come quella che ha fatto l'Inter col Barcellona, al di là delle motivazioni, al di là dell'avversario, ma una partita con quello spirito di sacrificio non lo fa, e molti mi hanno scritto giustamente, ma allora sanno anche giocare a pallone, e sì ma i problemi di Inzaghi non finiscono ragazzi, infatti non voglio neanche avventurarmi sulle scelte a Reggio Emilia, torno a dire concetti che ho già espresso, per parlare di svolta, per dire siamo fuori dalla crisi, devo vedere, visto che abbiamo già perso quattro partite in questa stagione, pensate che l'anno scorso l'Inter quattro partite le ha perse in tutto il campionato e stavolta le ha perse praticamente in un mese, ecco io non parlerò di svolta neanche se dovessimo vincere, ripeto a Reggio Emilia col Sassuolo, perché voglio un bel numero di partite, lasciamo perdere la Champions, sto parlando di campionato, voglio un bel numero di partite messe in fila e fatte, non mi interessa, giocando bene, benino, benissimo, vinte, allora lì parlerò di svolta, però insomma delle cose le abbiamo viste, io il mio invito a Inzaghi è anche a non andarti a creare per forza, tanto ti diranno sempre che non leggi le partite, che non sai fare i cambi, queste cose te le diranno sempre, anche se tu non dici mai, devo dire che le assenze non contano, perché secondo me fai bene a non dirlo perché le assenze contano, perché regalare Lukaku, regalare Brozovic, insomma non è propriamente facile, e Pioli invece continua a dire no, ma l'assenza non c'entra niente, secondo me c'entra neanche come altro che storia, però al di là di quello, rapidi suggerimenti, visto che ti stanno downloadando un sacco di critiche tipo i pacchetti di installazione sui computer, no? Allora cerca di installarne qualcuna così te la devi di torno, per esempio scegli Onana, l'ho già detto, quando c'era Bayern Inter, da Inter Torino, poi lì Andana invece ha fatto partitone, ma non c'entra, adesso devi prendere un'idea fissa, almeno sul portiere, almeno questo non te la rimproveranno. Poi è ovvio che alla prima papera di Onana che l'ha rischiata con quell'uscita, scusate, anche col Barcellona, è chiaro che ti diranno, eh ma allora perché era meglio andare avanti che gioca Andana? Allora, prendi delle decisioni definitive, una decisione definitiva è quella del portiere, adesso devi giocare Onana, da qui al Mondiale, salvo che non stia bene, deve giocare Onana, punto. Non ci sono altre storie. Di Marco, continuo a dirlo, Di Marco, vediamo degli sprazi addirittura alla Perisic perché veniva attaccato da Dembele ma riusciva a riattaccarlo, bene Di Marco, laterale sinistro fisso, io ero il primo che ho detto, proviamo con Gossens, però ragazzi Di Marco in questo momento sta bene, gode di ottima salute, mi sembra motivato, l'ho visto anche in nazionale, scegliamo Di Marco, non facciamogli fare più il braccino di sinistra, lo mettiamo fisso sulla corsia di sinistra per qualche partita, vediamo come va. Altra cosa, Cialanoglu al posto di Brozovic l'anno scorso, abbiamo provato una volta, non è andato bene, allora poi abbiamo provato Barella, poi abbiamo provato Gagliardini, cavolo questa volta ha giocato al posto di Brozovic è stato il migliore in campo, il gol, e che gol, un tiro che ha impegnato il portiere Barcellona, molto pericoloso, recuperava, distribuiva, raddoppiava, mi sembrava veramente il Ciala, la canna, molto motivato, quello che avrei voluto vedere anche al posto di Brozovic l'anno scorso, l'anno scorso è andata male, basta, adesso è andato bene, riproponiamolo lì, almeno queste tre scelte, Onana in porta, Di Marco fisso a sinistra e Cialanoglu finché non rientra Brozovic, che ci vorrà non so quanto tempo, almeno queste tre scelte, caro Simone Inzaghi, le devi prendere per qualche partita, fare in modo che diventino definitive, io questo ti chiedo, poi ragazzi a Reggio Emilia è durissima, cerchiamo di non pensare poi a Barcellona-Inter, se noi vogliamo raddrizzare la nostra classifica non so neanche che risultato augurarmi poi per me la Juventus che gioca nella stessa giornata ma non mi interessa, cerchiamo ripeto di dare continuità, finalmente di dare continuità, la partita con il Sassuolo è assai più importante di quella vinta col Barcellona, accetto anche lo stesso risultato, di misura, soffrendo con vittoria, mi raccomando, grazie a tutti voi ragazzi per aver partecipato numerosi alla live chat straordinaria di ieri e ci vediamo prestissimo, evviva l'Inter! Televalo F SENIOR valore